Vai! Trog ne è curare ancora! Le lenzano di nuovo da prendere i trog, impedisce che li porti via ma... Così a caso è esploso un trog appunto. Ma però sti trog sono dei deficienti, non lo so ovvio. Vai! Ah questa volta sono... Azzurri. Che bella azzurri. Peccato che... Che cos'è questo coso? Non voglio neanche sapere, non ricordo che cosa evocano però... E' un po' cosa del mio più, il mio tanto bello. Stai arrivando in gioco e qui stai arrivando via, che io anche voglio prendere le balle. Via! Posso coprire anche io. Cosa faccio? Voglio vedere adesso che cosa evoca. Ah evoca i troll. E' questo ammazzini infernale, che poche troll. Imposizzi. Cosa faccio? Il pece è stato semplice. Non, non, non... Cosa... Paolo, l'ho pigliata, l'ho già morto giù. Non pare due in uno! Il fiorgio ti fa diventare gigante gli altri fiorgi. Ammazza questo! E' questo ancora piccolino! Ha! Sto, ce l'hai un casinico evidibile! Ma tanto, è un casino che lo sto capendo, nemmeno io! Sono solo che stavo all'ultimo livello! Adesso! Ma poi i golem, perché ci sono i golem? Perché ci sono i golem? Sì! Ha copiato di golem! Ha copiato! Sì! 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 Non so, io stiamo già a quasi 40 minuti che con sto... in situazione qui... Ma che beeeella idea! Sì! Ma che beeeella idea! Se sei stato attaccato... Ah! Ma che beeeella idea! Sei stato attaccato da un greggio di pecore fantasma! Si confesi le mie ricci per i guaghi che... Quindi a posto della nuvola adesso ci sono le pecore! Eeeee! Vuoi cominciare questa battaglia? Sì che lo vuoi! Sì! Poi ci si viene da chiedere... PERCHÉ... Delle pecore! La loro sapete delle pecore sono malvagie! Ah! Lo sapete che qui ci fanno ancora più male! Ci... 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 Ci colpiscono il triplo! Ah! La loro sapete delle pecore sono malvagie! Ah! Quanto cibo! Quanto cibo! Peccato che fumo in alto! Io in alto... Ci... Stavolta la giro le devo ammazzare... Dopo che arrivo giro! Perché ci arriva giro... Ci arriva giro... Ci muoiono giro giro! E adesso... Tenenemente colpite da delle pecore! Oh, a livello 3 Questa invece è uno di quelli veri che tu hanno 5 secondi Oh, ma se che qui c'è il peggio della nuvola Cioè, ti metti un secondo che mi c'è invece Mmm Eh, sai, gli piacciono un sacco il ciclo che prende Passiamo qua i livelli tu Lì, lì è metto il dolce e il tacco Sono una figlia a 100.000 anni Oh, adesso non hai metto ciòpi, muovi più un sacco di cibo Livello 4 Eh, per favore, sono solo 3 Maledetti Quest'oro che durasse poco E mi ha fatto soffrire con queste maledette pecore Non mi mette a capare le pecore Vergognatevi Sì Ah, non mi metto C'è chi ha fatto di cosi Fare konnte Con il calcio Mi fa già signora Ah, guarda Nessun Inzio Ancu, ancora ket